Anno Oliveri I bisogni psicologici dei bambini Eravamo rimasti Tempo degli adulti Sappiamo che la qualità del tempo trascorso Con i figli È più importante della quantità Se però si scende al di sotto di un certo livello temporale La qualità si riduce I bambini hanno bisogno che qualcuno presti loro attenzione Sia presente Dedichi loro un po' di tempo Il contatto fisico, il dialogo, il poter svolgere delle attività insieme Sono tutte condizioni di un buon rapporto Il contatto fisico è una forma di comunicazione irrinunciabile Nei primi mesi di vita Quando i piccoli non parlano E non comprendono il significato delle parole Ma per tutta l'infanzia continua a far loro piacere A essere di tanto in tanto abbracciati O tenuti per mano Sono molto sensibili alla presenza fisica delle proprie figure di attaccamento La loro sola presenza, quando il rapporto è sereno Produce un clima caldo e protettivo Ciò spiega perché essi amino rimanere nelle vicinanze di mamma e papà Della nonna e della babysitter Anche se queste figure Per loro fortemente significative Sono in altre stanze della casa Impegnate in altre attività E si sono rassicurati dal fatto Che sono raggiungibili Possono giocare tranquillamente da soli Proprio perché sentono la loro presenza Possono scendere in cortile E restarci a lungo Perché sanno che in caso C'è qualcuno Un genitore, un nonno, una babysitter Non deve sostituirsi ai figli e ai nipoti Facendo loro i compiti o risolvendo ogni tipo di problema pratico Mostrarsi però disponibili per un'indicazione, un suggerimento Aiutare a risolvere un passaggio difficile o poco chiaro Ascoltare mentre recitano una poesia o ripetano una lezione Non soltanto è opportuno ma generare un clima favorevole Alla concentrazione, all'approfondimento Qualunque sia la dimensione della famiglia Ai bambini fa bene ricevere attenzioni individualizzate Stare ogni tanto da soli Con uno o entrambi i genitori Sentirsi ascoltati I bambini trascurati e abbandonati a loro stessi Sono più a rischio degli altri Saperli incidenti in cui possono incorrere più facilmente Saperché tenderanno a cercare altrove quel sostegno Che non trovano in famiglia Con tutti i rischi che ciò può comportare Quando le persone che incontrano non sono affidabili È noto ad esempio che i pedofili Cercano le loro vittime Mettere bambini maltrattati o trascurati dai loro familiari Ciò non significa ovviamente Che i genitori e i nonni Debbano assillare pigli e nipoti Con controlli continui Togliere a loro il piacere di prendere iniziative Di esplorare Di fare autonomamente le cose Di mettersi alla prova Significa che all'occorrenza sono disponibili Stabilità L'essenza di questo bisogno consiste nell'avere almeno una relazione affettiva stabile Più ce ne sono, scusate, è meglio a La stabilità affettiva consente di nutrire fiducia negli altri Per crescere fisicamente, emotivamente e intellettualmente Si ha bisogno di stimoli e novità Ma anche di stabilità e di coerenza Di disporre di punti di riferimento reperibili Sia nell'ambiente fisico che nelle persone In un nucleo familiare stabile e sufficientemente organizzato I bambini possono prevedere gli effetti Gli eventi, scusate Coglierne il senso e hanno un'idea realistica Delle conseguenze che comportano le loro azioni E quelle degli altri Scusate, con questo buio non ci vedo un cazzo Non so se si è capito La stabilità emotiva che nasce da legami di attaccamento Trasmetto un senso generalizzato di ottimismo e di fiducia Crea una buona base di partenza E a lungo termine ha i seguenti effetti Aiuta il bambino a osservare il mondo E a prendere iniziative Incoraggia lo sviluppo del pensiero logico Si colgono sequenze di azioni e di reazioni significative Facilita la socializzazione Promuove la formazione di una coscienza Aiuta a reagire agli stress A fronteggiare le frustrazioni, i dolori, le paure Favorisce il raggiungimento di un giusto equilibrio Tra dipendenza e indipendenza Promuove la formazione dell'identità Aiuta a superare più facilmente i conflitti Fornisce la certezza che si possa trovare una via d'uscita Favorisce lo sviluppo di relazioni affettive E sane negli anni a venire Stabilità Scusate Implica anche che i genitori reagiscano in modi prevedibili I bambini che hanno dei genitori Troppi cambiamenti non aiutano i più piccoli Le abitudini e le routine sono la base del senso di sicurezza I bambini che devono affronteggiare troppi e continui cambiamenti Specialmente se traumatici o difficili Come la separazione da un genitore Una lunga ospedalizzazione La malattia di un familiare Devono essere compresi e sostenuti Il caso che segue illustra come un cambiamento apparentemente innocuo Quale può essere un trasloco Possa creare inquietudine in un bambino Piccolo, abituato ai propri spazi Valentina, quattro anni Gioca con due casette di legno Che lega l'una all'altra Con una cordicella Mentre in precedenza Si univa Agli altri bambini E cambiava spesso attività Da un po' di tempo Il gioco delle due casette Sembra assorbirla completamente Parlando con il papà Che accompagna la bimba Alla scuola materna La maestra viene a sapere Che anche a casa Trascorre molto tempo A giocare alla casetta Accucciandosi sotto un tavolo E che recentemente La famiglia Ha traslocato Da un appartamento piccolo A uno più grande Ciò che è bello Per gli adulti Non lo è però Necessariamente per i bambini Che possano continuare A restare affezionati Agli spazi precedenti Alla luce di questa rivelazione Il gioco delle casette Assume un nuovo significato In esso si può vedere La difficoltà Ad adattarsi ad un cambiamento La cui assimilazione Non è immediata Il tavolo partitore A casa E le due casette Legate a scuola Sono una rappresentazione Simbolica Del passato La cui Valentina Non è ancora riuscita A distanziarsi Come gli adulti Anche i bambini Cercano continuamente Di dare senso Alle loro esperienze In questo caso Valentina Si è creata Una situazione Intermedia Nella nuova casa Sotto il tavolo Ha ricreato Il vecchio appartamento Mentre le due casette Di legno Legate l'una all'altra Indicano che la memoria Della prima casa È ancora molto forte Con tutto il bagaglio Di emozioni Che esso apporta Con sé C'è bisogno di tempo Per rinunciare Alla prima E accettare la seconda E per un bambino Di quattro anni Il tempo Ha una portata Diversa Dalla nostra I bambini Che devono affrontaggiare Troppi continui cambiamenti Specialmente Se stressati Come la separazione Da un genitore La malattia Di un familiare Il cambio Di scuola O di classe Devono essere Compresi E sostenuti Bisogna Cercare Di controbilanciare Gli eventi Stressanti Con rassicurazioni E spiegazioni Che restituiscano Il senso Della continuità Dell'esistenza Anna Oliveira Ferraris Non solo Amore Ibizani Psicologici Dei Bambini Giunti Demetra Editora Sì Bambini Bambini L'esistenza